supponiamo di aver appena terminato il disegno del nostro logo vettoriale in illustrator e di volerlo trasferire in un progetto di photoshop il metodo migliore per procedere è questo selezioniamo il nostro logo lo copiamo lo teniamo negli appunti andiamo ad aprire photoshop a questo punto apriamo un nuovo documento e siccome abbiamo copiato il logo dagli appunti photoshop ci restituisce già le dimensioni giuste per andare a creare la nostra immagine a questo punto incolliamo come avrete già indovinato il nostro logo all'interno del nuovo file ma quello che facciamo non gli diciamo pixel e non gli diciamo nemmeno oggetto avanzato gli diciamo invece tracciato questo perché nel momento in cui noi andiamo ad applicare un livello tinta unita gli diamo il colore che preferiamo questo metodo ovviamente funziona sui loghi a tinta piatta ma d'altronde al giorno d'oggi quale logo non è a tinta piatta andiamo a selezionare il nostro colore in questo caso il nero e gli diciamo ok a questo punto vedete che noi abbiamo uno sfondo che in realtà non ci serve potremo anche buttarlo via dopodiché abbiamo un livello che contiene il nostro logo del colore che abbiamo deciso e vedete che è un tracciato per cui il nostro logo è un file vettoriale all'interno di photoshop in questa maniera il nostro logo mantiene la massima definizione e possiamo modificarlo anche pesantemente senza perdere qualità